Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale del Giacone per Flapo Oggi siamo qui a presentarvi il nuovo The One X by Baird Vape Eccoci qui ragazzi, allora è di entrare a far parte del Giacone Eccoci qua ragazzi allora con il The One X by Baird Vape presentato a Roma Che è entrato a far parte della famiglia Liquid Vapor Innanzitutto salutiamo Liquid Vapor, salutiamo Gaitano e salutiamo anche Lick Ciao a tutti, va bene ciao Va bene ciao No lui è, anche lui è ciao Come gli altri The One Donut quindi ciambella americana Però stavolta con il marshmallow con una punta di cannella All'olfatto si sente la ciambella e la cannella Lo proveremo su Profile 1.0 Va bene Mesh originale Votofu 0.18 Sadi, una cosa già sentita Sadi cremoso, mu, mu Cremato Cremato mu Allora l'aspirazione si sente proprio la classica Donut Con una spruzzatina di cannella Veramente eccezionale E' il marshmallow? Io non lo sento Forse perchè non... Minchano Sarà il dolce del... Sarà il dolce E' subito Marshmallow e cannella E' lo zuccherino della... E' il latte dà la cremosità insieme alla frittura non si sente? No, io la frittura... Cioè la ciambella la sento Senti la pasta, la ciambella più che il fritto Si, è un po'... Allora... E' un marshmallow fritto con la cannella Gli do 8... 8,15 8,5 Buono questo Particolare Il liquido già... Non è come i soliti... Come... Vabbè... La ruota, la giri... Sembra... Non è una cosa sentita sempre Ecco, è una cosa un po' particolare Non è particolarissimo però A me piace molto Diciamo che... PAM! Innanzitutto non è carico di aroma Quindi è un... E' delicato E' delicato E' bilanciato bene Io sento bene sia il marshmallow Che la cremosità del latte Con un po' di pasta... Di frittella Ma la cannella... Non c'è cannella Eh, se la trovi un po' c'è C'è, c'è Ma è proprio giusto... Si Proprio perfetto Si Sento molto... Molto il marshmallow Il dolce del marshmallow Lo sento E' molto marshmallows Si Buono, buono Mi piace Molto buono Buono, bradi Io do un bell'otto 8 Io ho 8,15 8,5 8,5 8,5 8,5 Provatelo Quindi nuovo The One Che entra a far parte Della famiglia Bad Vape Quelli con la barba Quelli con la barba Quelli con la barba Sì Questo veramente valido Ragazzi Come si chiama poi alla fine? The One The One Ah basta Non è il modello Marshmallow Milk Marshmallow Milk Modello Marshmallow Milk Provato Ringraziamo Gaetano Calandra Ringraziamo Liquid Vapor Tutti salutiamo Ringraziamo Iscrivetevi al canale Recenseteci su Flavorippo Micifico Punto It Continuate a firmare La petizione E seguiteci su Instagram Perché se no Siete dei Cacini Bastardi Siamo a facer un video Con il nostro padre Del Visello Siamo a facer un video Vabbè ciao Siamo a facer un video